In questo video vediamo un'altra possibilità offerta dalla funzione Elementi Generate Press per personalizzare alcuni aspetti del tema, come ad esempio il nome delle categorie o eventualmente anche il nome dell'autore dell'articolo, la data e altre informazioni simili presenti nelle pagine dei singoli articoli. Andiamo qua nella sezione Elementi e aggiungiamo un nuovo elemento, sempre del tipo block. Gli assegno un nome, articolo informazioni meta perché le meta information è il nome tecnico che hanno questi aspetti, queste informazioni collegate a una pagina o un articolo, però puoi chiamarlo come desideri. Qua nella sezione Elemento block element scegliamo come tipo di elemento post meta template e questa volta anziché crearlo manualmente, scegliamo un template già pronto. Vedi che qua è presente un esempio di template con nome autore, data di pubblicazione e eventuali commenti presenti, oppure uno con il nome dell'autore, la data e l'avatar dell'autore e un altro con i pulsanti legati ad esempio alle categorie o ai tag assegnati all'articolo. Scegliamo ad esempio questo terzo template. vedi che viene inserito direttamente. Prima cosa che voglio fare è andare a verificare che tipo di termini sono linkati a questo template. Quindi clicco, vado qua su Dynamic Option e vedo che come lista dei termini sono indicate le categorie. Volendo potrei scegliere anche i tag o i post format. La terza voce lasciala pure perdere perché è inutile da inserire in questo caso. Categorie e post tag però sono due possibili varianti. In questo caso scegliamo le categorie. Altra cosa che voglio cambiare è il colore perché nero di sfondo non mi piace. Quindi vado qua in colori e cambio. Colore di sfondo, scelgo blu scuro e come over scelgo colore di sfondo questo azzurro grigio chiaro e colore del testo scelgo blu scuro. Così quando passo con il mouse sopra il pulsante, sopra il nome della categoria, il pulsante cambia colore. Ora vado a impostare anche la posizione perché se non la imposti questo blocco non comparirà mai, quindi aggiungi regola di posizione, qua in seleziona, scendo e scelgo articoli, articolo e di conseguenza tutti gli articoli. Clicco pubblica e ancora pubblica e vado a vedere il mio articolo. Refresh e vedi che qua compare il nome della categoria. Se vado qua in fondo su un altro articolo, vedi che anche qua categoria A, vediamo se troviamo un articolo di un'altra categoria, così almeno vedi che è dinamico. Finalmente l'abbiamo trovato. Vedi che qua è categoria B perché anche in questo caso è un elemento dinamico, quindi prende il nome della categoria. Se io vado a modificare questo articolo e aggiungo o scelgo una nuova categoria, ad esempio supponiamo di aggiungere una nuova categoria e la chiamo categoria C e la aggiungo, quindi questo articolo adesso è in due categorie, clicco aggiorna, vado a vederlo, vedi che qua compaiono le due categorie. Di default però il tema mi mostra il nome delle categorie anche qua in fondo. È chiaro che non è il caso di averlo sia sopra sia sotto e soprattutto con due stili diversi, quindi voglio eliminare la versione standard dell'elenco delle categorie. In questo caso per togliere la modalità standard di elenco delle categorie devo andare in personalizza, layout, blog, contenuto singolo e disattivare qua mostra categoria articolo. Vedi che ora qua in fondo è sparita la voce di elenco delle varie categorie. Clicco pubblica ed esco. Ora è rimasta solo la modalità personalizzata che ho inserito io. Voglio fare un altro cambiamento però. Non voglio elenco delle categorie qua in alto ma lo voglio inserire qua sotto l'articolo. Quindi torno qua nel mio blocco creato e sempre nella parte elemento, nella voce location, vedi che qua è indicato prima dell'articolo, prima del titolo dell'articolo. Quindi da qua scelgo che sia after content, quindi dopo il contenuto. Aggiorno, vado a vedere l'articolo, faccio refresh, scendo e vedo che è posizionato qua in basso però sotto il box autore. Io vorrei posizionare prima l'elenco delle categorie e poi il box autore. Quindi torno qua e potrei o variare questa posizione, quindi cambiando da after content, scegliere custom e poi variare questa posizione, oppure più semplicemente, qua aggiorno, torno all'elenco degli elementi, vado sull'elemento box autore e vario questa posizione. Quindi in questo caso, anziché after entry content, scelgo un'altra posizione, come ad esempio after content, che è la stessa usata per le categorie. E come priorità metto una priorità più alta. Il default è 10, quindi se in questo caso io imposto 11, clicco aggiorna, vado a vedere, refresh, e vedi che ora tutti e due sono posizionati come after content, però questo a priorità standard, ossia 10, sta in alto, questo a priorità 11, sta in basso. Se volessi riportare sopra questo, mi basta andare qua in box autore e come priorità, anziché 11, scelgo 9, aggiorna e vedi che l'ho sposto in alto. Quindi, attraverso gli hook e attraverso le priorità, hai un controllo granulare sul posizionamento dei vari elementi. Qua rimetto 11, clicco aggiorna, così le cose sono tornate al proprio posto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.